Il caso del turco è drammatico, aggiungo non drammatico ma significativo è anche il fatto che siano stati indagati il presidente della regione campana, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia per l'iniziativa che riguarda tutta la vicenda dell'American Cup ed è una storia che dimostra che in Italia a questo punto è bene che gli enti locali non facciano nulla perché altrimenti si trovano in guai giudiziari, tra l'altro in quel caso è una cosa assolutamente bipartisan visto che riguarda sia il presidente della regione che è l'amico Stefano Caldoro, sia il sindaco di Napoli che De Magistris, quindi la cosa è ugualmente distribuita.